Nella settimana dalla 14 al 20 marzo hanno spolato in materia di videogiochi ottenendo grande successo i nuovi titoli ispirati alla celebre serie animata Nipponica e Pokémon. I due nuovi giochi di Pokémon per Nintendo DS intitolati Pokémon nero e Pokémon bianco si sono collocati nelle prime posizioni dei videogiochi più venduti in Italia. Nipponica